Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo a Trezzolano a fare l'Albis Sono con TommyMTV, andate a seguire anche lui E niente, per lui è la prima volta che viene a fare l'Albis Quindi glielo mostrerò E niente, iscrivetevi al canale Andiamo? Bene Grazie a tutti Grazie a tutti , non è vero, non è vero Qual il vero quotidiano Non è vero, non è vero Vbeno ti metti dritto Sì One sec, we need Sì Sì Allora qua Tiro una pedalata e mollo Puoi farlo anche più lento Bravo Oh Hai inventato il nuovo drop Da qui sei arrivato qua Guarda qua c'è tutta la sgommata Ti dovrei aver filmato No Ciao Adesso siamo alla città di un montone Sì Sì Bello ragazzi Il video è finito Lasciate un like Iscrivetevi Spero vi sia piaciuto E mi ci vediamo Sennò vi passo a un nuovo video Ciao 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 Grazie a tutti.